Mai dal dopoguerra d'oggi il Parlamento italiano è stato così profondamente rinnovato dal voto popolare. Per la prima volta i giovani e le donne sono parte cospicua delle due Camere. Per la prima volta ci sono i numeri per dare corpo ad un cambiamento sempre invocato e mai realizzato. Sarebbe grave e triste che questa occasione venisse tradita, soprattutto in presenza di una crisi economica e sociale gravissima. Si apre così facciamolo. L'appello firmato da Michele Serra, Roberto Benigni, Roberto Saviano, Lorenzo Giovanotti, Carlo Petrini, Barbara Spinelli, Don Luigi Ciotti e Don Andrea Gallo, ma non solo. I firmatari chiedono che non venga escluso un possibile accordo tra PD e Movimento 5 Stelle. Tutti uniti per chiedere ai politici di impegnarsi al massimo per creare un nuovo governo di alto profilo in grado di dare corpo a queste speranze di cambiamento. L'appello al nuovo governo ha già raccolto migliaia di adesioni, ma tuttavia non sono mancate le polemiche. La decisione di firmare il documento da parte di Lorenzo Giovanotti è infatti stata fortemente contestata da molti sulla pagina Facebook del cantautore italiano.